Auguri a Stampa Evangelo che riprende lunedì 8 gennaio, auguri a tutti coloro che la seguono sulle frequenze di Popolo della Famiglia TV, auguri a tutto il Popolo della Famiglia per le prossime feste natalizie Buon Natale e buon inizio d'anno, sarà l'anno decisivo per il Popolo della Famiglia Ciao da Maria di Notte La nascetta di Inna Bettelemma, era notte ma pareva mio giorno Ecco, io vi auguro così il Natale, un Natale di luce, di chiarissima luce Paolo Buonaiuto, PDF TV, Famiglia e Futuro, Forza PDF La bellezza come quella che ho alle mie spalle salverà il mondo e per questo gli auguri di Natale che faccio a tutti voi non è solo di andare in chiesa ma di essere chiesa e di continuare a parlare di vita anche se tutto intorno continua a parlarci di morte L'albero c'è, anche il presepe, un buon augurio di Buon Natale a tutti voi dal vostro Mirko De Carli un grande saluto, un abbraccio, Buon Santo Natale e sempre in lotta amici Buon auguri, auguri di un Santo Natale e un felice anno nuovo mi raccomando, vi aspettiamo il prossimo anno, c'è un posto per te, abbiamo tantissime novità per voi Ciao ciao, auguri ancora Ciao a tutti, Buon Natale e ho tirato tantissimi video stamattina, spero che questo sia quello buono Tanti auguri a tutti gli amici del popolo della famiglia e ci vediamo nel 2018 Ciao Cari amici, vi voglio fare tanti cari auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo e ci vediamo l'anno prossimo Ciao Auguro a tutto il popolo della famiglia un sereno Natale e un magnicio un posto per tre riprenderà a gennaio con delle sorprese che non mi voglio ora anticipare e tutto quanto il resto, a cui mi accade Buon Natale a tutti gli amici del PDF, ciao a tutti auguri Direttamente dalla redazione della grande storia dove stiamo lavorando le prossime messe in onda anche per queste feste di Natale tantissimi auguri di Buon Natale, di felicità e di tantissima gioia da Danilo Leonati Amici amiche di PDF TV, ciao a tutti Tanti, tanti, tanti cari auguri di Buon Natale, felice anno nuovo che sia veramente un anno di pace e di gioia a voi e alle vostre famiglie, ciao Una mamma e un papà, una nonna sul sofà La gioia in famiglia, lo stupore e la meraviglia Per questo Natale, caro Gesù, pensaci tutti Buon Natale Nel presevere hanno rimasti solo il bue e l'asinello Ho preferito essere l'albero, il vostro albero di Natale di potenza Tanti auguri amici del popolo della famiglia Cari amici, io l'albero di Natale invece l'ho fatto qui e non l'ho fatto come Fasuro che invece si è trasformato in albero di Natale Vi auguriamo sia io che Fasuro e tutto il gruppo di preghiera del popolo della famiglia davvero un Natale cuomo di serenità e di gioia Auguri carissimi a tutti voi che questo Natale ci porti la pace ma non ci lasci in pace ci aiuti a fare rivoluzione nei nostri cuori e nella società grazie a tutti sempre di seguirci e ci rivedremo dopo l'8 gennaio tutti insieme Santo Natale e Santo Episodio Auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie ci rivedremo l'8 gennaio per la ripresa delle trasmissioni del PDF TV Ciao a tutti da Liberamente vi auguro un Santo Natale vi auguro un feste che Gesù possa nascere nei vostri cuori anche nel mio Buone feste da Liberamente Ciao Daniela Daveri del popolo della famiglia di Arezzo augura a tutti uno splendido Natale in particolare ad Emanuela e Francesca tantissimi auguri amici del popolo della famiglia Gabriella, Mailia, Circolo Santa Maria popolo della famiglia Arezzo un auguri effettuoso per le prossime sante feste a tutto il popolo della famiglia e a tutta l'Italia un abbraccio fortissimo ciao a presto ciao amici dalla PDF TV sono in compagnia di questo pericolosissimo presepe Buon Natale sia un Santo Natale e un bellissimo anno nuovo ciao a tutti da Cattolici in Politica PDF TV Rimini Rizzonte tantissimi auguri di Buon Natale ma soprattutto di felice mi raccomando invito a tutti gli italiani di votare responsabile di votare il popolo della famiglia ciao a tutti a tutto il popolo della famiglia a tutte le persone che ascolto i nostri programmi un augurio di un Santissimo e Felicissimo Natale 2017 ci rivediamo prestissimo e forza forza PDF che entriamo nel Parlamento ciao a tutti ciao a tutti tanti auguri di Buon Natale di Felice Anno Nuovo ci vediamo nel 2018 più forti di prima forza PDF tanti auguri tanti auguri Buon Natale 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 scocchiettante No no Natale deve essere sì No no anche scocchiettante tanti auguri ciao Buon Natale Buon Natale Ciao Ciao cari amici del popolo della famiglia TV e in particolar modo gli amici di Atlantide l'occasione gradita per augurarvi un grandissimo augurio di Buon Natale e felici feste e forza il popolo della famiglia Buonasera amici del popolo della famiglia buon Natale tolgo la barba ma il cappello no eccomi qua tanti auguri a Mauro Galastri grazie per aver ascoltato le mie le mie trasmissioni Buon Natale Ciao ragazzi auguri di Buon Natale a tutto il popolo della famiglia un santo e sereno Natale e un buon anno nuovo ci rivediamo l'8 gennaio ciao amici auguri auguroni a tutto il popolo della famiglia ciao a tutti gli amici del popolo della famiglia TV auguri di Buon Natale e felice 2018 da Massimiliano Fiorin e affari di famiglia auguri a tutti un abbraccio a tutti un augurio di un santo Natale dal nostro presepe Guido e Livia Buonasera da Crone della Capitale Andrea La Rosa Giuseppe D'Aria e Claudio Parisini no buone feste ma buon Natale il nostro augurio quello più bello è che torni presto il bambinello e non ci trovi impreparati noi qui stiamo parati la lotta nostra è una lotta dura ma è una lotta buona e non lo famo con la portona lo famo pure per chi non crede lo famo pure per chi non c'ha fede e se sta lotta un po' pepia votate il popolo della famiglia Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale